Sono partiti dall'aeroporto di Fiumicino e arrivati a bordo di due pullman al Residence Alcolle di Petacciato. Solo la tappa conclusiva del lungo viaggio della speranza iniziato dall'Eritrea per raggiungere l'Italia e l'Europa, rischiando la vita tra tanti sacrifici e paure. I migranti sono una novantina, 72 donne e 15 bambini, accolti nelle strutture confortevoli e attrezzate. Ancora provati dall'esperienza, ma dopo le visite mediche e le prime cure, ora stanno meglio e prendono confidenza con la loro nuova casa, come racconta Feber, 18 anni. Dall'Eritrea sono arrivati a Khartoum, da lì hanno attraversato il deserto, un viaggio che è durato a seconda dei casi un mese e due mesi. Sono arrivati sulle coste libiche, hanno preso una barca e dopo due giorni di viaggio sono arrivati in Italia. Prefettura, protezione civile al lavoro con la cooperativa Cosmo per gestire l'accoglienza dei migranti. C'è stata una richiesta da parte del Ministero di disponibilità di strutture per accogliere e ospitare questi immigrati. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, credo che sia una cosa giusta, una cosa umana da fare. Quanto tempo staranno qui? Non sappiamo di preciso, noi li aiuteremo per delle sistemazioni definitive, per ricongiungimento con parenti, famiglie che possono essere in altre parti d'Italia o all'estero, anche a svolgere tutto l'aspetto burocratico. Sono persone libere, non sono clandestine. La macchina della solidarietà si è messa in moto, ma corrono ancora generi di prima necessità. Occorre praticamente intimo, slip, roba intima, reggiseni, assorbenti, ecco tutta roba di prima necessità donne. Tutte donne e bambini, soprattutto bambini. Vestiario e... Scarpette, scarpe, scarpe 39, 40, 38, che siano ciabatte, che siano... perché sono tutte scalze. Anche un bimbo oritreo si mette all'opera per stendere i vestiti appena lavati. Per lui un sorriso e una nuova vita che ricomincia dalle colline del Molise che danno sul mare.